La GTM compare la quinta azienda di trasporto sulle 33 analizzate nel corso di un'indagine nazionale sulla qualità del servizio percepito. La stessa analisi che qualche anno prima aveva visto Pescar, terz'ultima nella stessa classifica. La qualità percepita dei servizi GTM aumenta di anno in anno. Quando questa indagine è iniziata alcuni anni fa, la GTM purtroppo risultava la terz'ultima in Italia come qualità percepita. Oggi risulta la quinta in Italia e la prima per velocità, per progressione dei miglioramenti su tutti i punti di vista percepiti dall'utenza. Soddisfazione da parte di Michele Russo per i risultati ottenuti nei sei anni di gestione, che oggi invece vede un cambiamento non di poco conto. L'azienda unica di trasporti che vedrà la GTM Fusa insieme ad altre due società. Il servizio nell'area metropolitana di Pescara, che è quello che interessa la GTM, non dovrebbe subire modifiche anche dopo l'unificazione. Ovviamente diventando una società unica l'analisi dall'anno prossimo sarà fatta sull'intera società e sull'intera qualità percepita da parte dell'utenza e quindi andranno ad influire anche i servizi resi fuori dal territorio pescarese. Un cambiamento che non riguarderà i servizi, spiega il presidente di GTM, quanto invece alle risorse umane e al nuovo assetto amministrativo ancora qualche zona grigia. Un'operazione molto complessa, molto importante e ovviamente quindi ha molti aspetti ancora da mettere a punto. Uno di questi, il più importante, l'ha toccato lei nella sua domanda, è quello relativo al personale. Perché il personale delle tre aziende che vanno ad unificarsi ha trattamenti differenti, nel bene e nel male. E questi andranno unificati, armonizzati, per evitare che si ritrovino a lavorare in una stessa azienda, persone con le stesse mansioni, ma con trattamenti differenti.